Buonasera ragazzi e chiedevo che abbiamo su un nuovo video vlog, un bici vlog Raga siamo tornati con il bici vlog raga, si perchè è quasi estate Per me che sto registrando questo video è il 18 aprile E per poi quando uscirà questo video sarà giugno oppure fine maggio Raga ci siamo, siamo ritornati con il bici vlog raga Per chi insomma sa che avevo smesso di fare il bici vlog in inverno Perchè non andavano bene nel canale Cioè come se li guardavano poca gente Erano guardati ma non tutto sto granché Ok però oggi sono qui per riportarli perchè raga visto che è in estate c'è più movimento Facciamo dei video all'aperto Insomma ci sta a riportarli raga giusto perchè è estate e io raga Comunque raga in inverno quando ho smesso di fare i bici vlog Ho smesso di fare i bici vlog I video però però in bici sono sempre andato ok raga questo volevo sottolinearlo ok Quindi vabbè raga ci sono sempre andato in bici ho solo smesso di fare i video Ho solo smesso di fare i bici vlog raga Io sono contento raga che sto riportando i bici vlog Perché è la serie che ho sempre portato nel mio canale da quando l'ho aperto Anche quello vecchio intendo Da sempre raga Li ho sempre portati e quindi siamo qui e sono qui per ricominciare i bici vlog Allora raga qua in giardino c'è Albi e un altro mio amico che se mi seguite su Instagram sapete chi è Si chiama Mattia e il suo soprannome che gli ho dato io è Bogo Ok vabbè perchè lui si chiama Mattia Bolognesi ok Però il soprannome è dato Bogo Bogo vabbè E quindi raga sono qua in giardino che mi stanno aspettando E raga io direi di andare Questa strada per chi mi segue da tanto l'ha già vista però raga forse non me la ricordate neanche non lo so Ovviamente abbiamo la carissima GoPro quindi raga aspettate Cioè io vorrei dire Oh mio dio siamo tornati con i bici vlog Ma io raga vi giuro che non devo ancora captare questo messaggio che vi sto lanciando Lo siamo tornati con i bici vlog Oh my fucking good raga che figato sono contento sono veramente contento Stacco la videocamera dal tre pieti e partiamo per questa nuova avventura Adesso raga adesso vi faccio vedere che sono qua fuori Qua c'è il bagno Stanno giusto per chiamare a mezz'ora che sono qua a non fare niente Se ti faccio casca è una bomba Beh aspetti altri un quarto d'ora Come no Arrivo Ti porto giù il pop Sì ti porto giù il pop Arrivo Poppe Poppe Arrivo Arrivo Addio Sì raga perché gli ho ordinato un pop da Amazon Visto che mio papà ha Amazon Prime E quindi mi è arrivato prima a casa mia Adesso glielo porto giù Vabbè raga mi preparo un attimino Mi metto gli occhiali, il casco, i guanti soprattutto Perché senza guanti raga io senza guanti non vado in bici È capitato un giorno raga che i guanti erano a lavare Non sono andato in bici raga perché io senza guanti Porca puttana non ci vado Potrei anche comprarmi dei guanti di riserva adesso che ci penso Però partiamo da un via in bici Bella Bici vlog Siamo tornati Siamo tornati Grazie a tutti 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 Grazie a tutti